It's all good man era l'altra volta al finale della quarta stagione e secondo me it's not all good man il finale di questa quinta stagione che ho appena visto terminare con better call soul quinta stagione di better call soul lo spin off di breaking bad ambientato prima prevalentemente prima della serie madre e che racconta le vicende di jimmy mcgill alias soul good man l'avvocato del cartello della droga, l'amico del cartello in qualche modo l'amico degli spacciatori di metanfetamine, quel delinquente da strapazzo che è interpretato dal nostro caro Bob Odenkirk come è andata questa quinta stagione in realtà più che quinta annata perché tra una cosa e l'altra in realtà è passato più di un anno fra una stagione, la quarta e questa qua e in realtà con questa stagione che contro le mie più che previsioni speranze non si è rivelata essere l'ultima stagione di better call soul ci apprestiamo a vedere poi in futuro, chissà quando verrà girata la sesta stagione di better call soul che arriverà a superare come numero di stagioni complessivo e come anni di produzione la serie madre, Breaking Bad com'è andata? com'è andata questa quinta stagione? come tutte le altre è andata molto bene è andata molto bene signore e signori perché c'è poco da fare Vince Gilligan non ne sbaglia una fondamentalmente non ne ha sbagliata una con Breaking Bad non ne ha sbagliata una nemmeno secondo me per certi versi con El Camino il film di Breaking Bad che ci ha raccontato che cosa è stato di Jesse Pinkman interpretato dal caro Aaron Paul dopo il termine di Breaking Bad che personalmente ho apprezzato, non ne avevo bisogno però ho apprezzato comunque non l'annovererò come la cosa migliore che abbia visto oppure come il capitolo fondamentale però secondo me ci stava e pur se con delle più che evoluzioni, con dei cambiamenti rispetto alla serie madre rispetto sempre a Better Call Saul che comunque ha dei caratteri un pochino diversi rispetto al Camino ha avuto un suo perché ha avuto un suo perché così come ormai è evidente ha un suo perché Better Call Saul che io sento sempre più gente continuare a dirmi è meglio di Breaking Bad è meglio di Breaking Bad per me no per me no perché? perché gli manca se vogliamo l'epica gli manca il ruggito alla rabbia ma gli manca quella ambizione di grandezza se vogliamo in realtà in qualche modo è un continuo stare a galla è un continuo prepararsi per uno status che però sarà quello non sarà mai qualcosa di più è difficile da spiegarsi però secondo me ci può stare la saga di Walter White e di Jesse Pinkman la saga di Breaking Bad in realtà li vedeva sempre in qualche modo scalare una gerarchia volenti o non volenti che fossero e li vedeva sempre malgrado certe routine che in realtà erano da Robetta in realtà sempre in qualche modo ergersi sempre di più nella scala sociale appunto della criminalità in cui si sono invischiati e il nostro solo il nostro solo apparentemente sì in questa stagione lui di fatto si fa ufficialmente amico del cartello amico del cartello perché ne ha passate di tutti i colori ne ha passate di tutti i colori si è addirittura ritrovato a rischiare la vita e a farsi vagamente come fecero i buon Jesse e Walter in Breaking Bad una puntata abbondante nel deserto anzi un pelo di più di una puntata in realtà a questo giro questa volta però non c'è il duo di Walter e Jesse ma c'è il duo di Mike e di Saul che sempre più fanno un pochettino l'uno alla spalla dell'altro per certi versi anche se in determinati momenti il buon Mike palesemente si mostra come un personaggio assolutamente favorito secondo me sia dagli sceneggiatori sia in generale comunque dal pubblico perché se no non avrebbe avuto tutto questo risalto che invece secondo me ha avuto a tratti anche superiori rispetto al personaggio di Saul che però in questa stagione rispetto alla scorsa la scorsa secondo me brilla un po' di più rispetto a quanto è stato nella quarta stagione ma in realtà brillano tutti cioè il mondo di Breaking Bad di Better Call of Duty cammino cioè il punto di forza di questa storia oltre alla regia che vabbè non lo sto più a dire perché sarebbe superfluo io tant'è queste inquadrature dai punti di vista particolari degli oggetti eccetera eccetera mi sembrano sempre delle robe allucinanti in alcuni casi sono veramente stupende e la regia è sempre impeccabile secondo me però gli interpreti sono il vero cuore di questa storia di queste storie perché abbiamo un abbiamo un Bobo Odenkirk che in questa stagione di fatto è sempre più un alternarsi di rabbia di volersi rivalere su coloro che gli fanno dei torti e poi cos'è? verso la fine soprattutto della stagione quando dopo la tornata fuori nel deserto si ritrova praticamente mezzo affogato anzi vorrebbe in realtà tutto scottato povera pelle mamma mia io sono particolarmente sensibile al tema delle scottature nella schiena ma lasciam perdere questa cosa è un'altra storia e lo vediamo a naspara lo vediamo sempre più a naspara e vediamo ergersi la eroina e anti-eroina per antonomasia di questa serie che sempre più mi sta diventando uno dei personaggi femminili carismatici e non banali che abbia mai visto direi ovvero sto parlando ovviamente di Kim sto parlando di Rhea Seahorn che è sempre una roba è sempre più brava sempre più capace ma è sempre stata capace fondamentalmente e che in questo finale di stagione che ho appena visto ha palesato come in realtà non sia assolutamente la ragazza da proteggere probabilmente sono gli altri che devono proteggersi da lei se questa qua li gira male e ha dato la dimostrazione del suo carisma infinito nella penultima puntata della quinta stagione quando fa fare la figura del fesso a Salamanca fa fare la figura del fesso fondamentalmente al personaggio di Lalo interpretato sempre in maniera assolutamente odiosa e assolutamente perfetta perché ha creato tirato su un personaggio che dovrebbe essere il più stupido di questo mondo e in realtà è molto più scalto è molto più sveglio di quanto si potrebbe pensare sto parlando del personaggio di Lalo appunto interpretato da Tony Dalton personaggio che si appresta avere la sua vendetta che non muore mai in qualche modo però prima o poi immagino che o rimarrà fuori dal giro di Breaking Bad perché finirà in galera o finirà oltre il confine oppure finalmente verrà ammazzato da sto benedetto immenso come al solito Gus Fring il buon esposito Giancarlo Gus per gli amici e sia amici in realtà e finalmente Lalo ha capito palesemente che c'è un infiltrato tra i suoi che è interpretato da Nacho interpretato da Michael Mando che io ammetto mi ero sbagliato ai tempi avevo paragonato l'attore all'interprete della trilogia di Goll in realtà che al suo tempo mi piacqua chiedo scusa comunque questo Nacho che anche lui è sempre più che sta affogando un pochettino come il nostro sole lì in realtà sta affogando ma al contrario di Sol le sue capacità di cavarsela si fanno in realtà sempre più limitate sempre più costretto e sempre più accercato da gente che o minaccia lui o minaccia i suoi cari allora deve tirare a campare tira a campare più non posso e chissà se ce la farà secondo me no in realtà però vabbè vedremo ho già parlato di Mike l'immenso Mike vabbè non ve lo sto ancora a rivelare fondamentalmente poi nel cast in realtà a parte il buon Patrick Fabian che interpreta sempre il solito Howard assolutamente adioso assolutamente funzionale per mostrare i lati a volte contraddittori e a volte negativi del buon Sol non c'è molto da dire su di lui fondamentalmente cosa ce l'ha a dire ancora di questa stagione di questa stagione era cominciata con la solita sequenza in bianco e nero sempre più avanti è il tempo la mia speranza segreta che si possa in qualche modo ma chi lo sa probabilmente sarebbe una cosa sbagliata ma me ne frega niente vorrei continuare a vederla io vorrei rivedere un bell'incontro tra a sto punto soltanto Jesse fondamentalmente e buon Sol dubito che accadrà ma chissà non lo so magari in qualche modo un'incastratina col buon Aaron Poll si riuscirà a trovare cosa ho visto nella prima puntata nella sequenza in bianco e nero abbiamo visto un momento in cui il buon Sol che già a suo tempo era scappato ai tempi di Breaking Bad questa volta decide di non scappare di nuovo e di risolversela da sé con la minaccia di essere stato scoperto nella sua nuova vita è l'occasione per fare un cameo di Robert Foster attore che io ovviamente ricorderò per Breaking Bad sebbene in realtà sia comparso praticamente nulla per il suo ultima interpretazione che pensavo fosse nel cammino e che invece apparentemente è in questo Better Call Saul ma in realtà lo ricorderò per un sacco di roba ad esempio per il suo ruolo di uno sceriffo Truman non il mio preferito nella terza stagione della mia cara Twin Peaks accidenti cosa c'è stato poi in questa stagione c'è stato Hank c'è stato il caro carissimo Hank Dean Morris che fa fondamentalmente un cameo in realtà ma che in realtà è concettualmente più funzionale di quanto potrebbe sembrare perché? perché il personaggio di Crazy 8 sappiamo essere stato un informatore in qualche modo e a questo punto abbiamo creato il ponte le basi perché quel personaggio fosse sia stato e sia l'informatore all'inizio di Breaking Bad così come vuole la storia peccato che non si sia visto di più ma in realtà sarebbe stato fin troppo pretenzioso in realtà è stato pubblicizzato comunque il ritorno in qualche modo di Hank chissà se lo vedremo ancora non è da escludersi sta cosa non è assolutamente necessaria però perché questa serie comunque a parte per le sequenze in bianco e nero e a parte per alcune cose ormai vive di vita propria lo posso riconoscere io stesso cos'altro dire? beh ovviamente la genialata del matrimonio la generata del matrimonio che viene ovviamente non dal nostro Soul ma viene da Kim dalla Better Call Kim da quella Kim che chissà alla fine magari è diventata in qualche modo ancora più avvocato del cartello di quanto ha fatto Soul solo che noi non lo sappiamo noi partiamo dal presupposto che sia stata in qualche modo salvata da Soul o magari non è vero magari non è assolutamente così chissà lo vedremo nella sesta stagione sperando che si riesca produrla il più presto possibile sperando che sia a disposizione il più presto possibile che storia che storia quella di Soul che storia quella di un universo di Breaking Bad che meraviglia che meraviglia onestamente dopo tutti questi anni perché ormai dal 2008 fa una cosa l'altra che il buon Vince Gilligan è immischiato nelle vicende dell'universo narrativo di Breaking Bad onestamente non so dopo di questo cosa potrebbe fare passare al cinema ma non lo so onestamente io sarei curiosissimo però lui funziona talmente tanto bene in un contesto televisivo seriale che è quasi un peccato malgrado comunque ripeta abbia apprezzato il suo tocco ma non può non apprezzarlo secondo me in Il Camino morale della favola limitiamoci a concludere questa mia divagazione infinita e divagazione e divagazione sulla quinta stagione di Better Call Saul bella funziona come al solito Better Call Saul è abbastanza sempre una garanzia è una delle pochissime serie ormai che vedo settimanalmente e ci credo perché sarebbe assolutamente un sacchilegio è una serie che se fosse in condizione di farsi il beam watching uno farebbe soltanto bene ma nel caso riuscisse a godersela settimanalmente va pure meglio assolutamente bene assolutamente contento guardatela cominciate a guardarla anzi se non l'avete ancora cominciata recuperatevi Breaking Bad prima fatemi la cortesia che comunque secondo me sebbene sia forse tecnicamente un pelino sotto non lo so questo qua però capiamoci c'è un'esperienza differente in Better Call Saul rispetto ai tempi di quando fu fatta Breaking Bad comunque perché c'è l'esperienza di tutta Breaking Bad e di queste stagioni di questi anni di Better Call Saul comunque recuperatevi questo immaginario recuperatevi la storia di Walter e Jesse recuperatevi la storia di Saul assolutamente recuperatevi il finale di Jesse e chissà chissà cosa ci riserverà il futuro speriamo comunque soprattutto una prossima e il più presto possibile sesta stagione di questa ottima serie che è Better Call Saul